Cerchiamo di giocare con rossa alla giungla, capito? Sì Se invece top c'è, che ne so, cane e the game, che sono un po' meno forti di scart, puoi andare tu e vado jungle, no? Queste robe qua Ok Quindi secondo me dobbiamo tenere aperte un po' tutte le opzioni e testarle Ora vediamo come vai tu jungle e se va bene abbiamo un'altra opzione in più da valutare E poi niente, ci dobbiamo riunire un attimo e fare un attimo la prep su cosa pensiamo sia meglio contro determinati teams Ok Ci sta? Yes, yes, yes VAMOS VAMONOS Beh comunque pare di master players, ma master players contro fieri Tu comunque Sara dovresti andare nel tribush all'inizio inizio per coverare Ora io prego che non siano lì, perché se fossero lì moriresti Però essendo che all'inizio ci c'è moving speed Esatto, tu ci vai lo stesso, ecco Nice Perché è importante andarci subito? Perché essendo più vicino alla tua parte del campo ci arrivi prima Ok? Se tu aspetti dieci secondi e ci vai, possono essere lì e ti massacrano Però se tu esci dalla base e ti catapulti lì, in nessun universo possono essere lì prima di te Devi pensare a questo Grazie a ping Ma porca miseria! Cosa vuoi da me? Scusa, 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 ho sbagliato Sono abituata con... Va bene, tranquilli eh, però Oh grazie, meno male, buona fortuna Adesso Carmen è molto importante che stai lì in c'è spuglio Ma non sta manco in questo poi, sta in quello dietro Eh ma perché c'è da brand? Eh beh Ok Comunque scusa Fieri che volevo... Volevo fare la hyping a De Dara Vabbè Eh no, si è offeso Ti riporterò la prossima volta Quando avrà la sua gallina al guinzaglio sulla Lamborghini È finita Te la sguinzagli subito Mi viene a cercare Mi fa troppo ridere che vuoi una gallina comunque È proprio strano Non c'è nulla di strano E' proprio da Fieri, capito? C'è qualcosa che ti sta bene alla gallina Grazie Pensavo anche le paperelle tipo ci starebbero Le paperelle! Però si ammalano facilmente, sai? So che sporcano anche un sacco Grazie, grazie per la tab Noi voglio soltanto animali che non si possono ammalare Resistenti Minchia Prenditi un Axolotl No, sono difficilissimi, sono difficilissimi Devi avere tipo 15.000 certificati per avere un Axolotl Esatto Davvero? Eh sì Sono il rischio di estinzione Vivono solo in una piccola parte del mondo Oltretutto Del naso, cazzo A casa Che cosa? Famosi Axolotl di caserta Famosi tutto al mondo Ah ma c'è la Watt Ah ma c'è la Watt Quelli in faccia Oddio mio, grado il naso Poi il verde minion Ah, sai che lo uccidiamo? Il naso, il naso Graffato, graffato Nice Aia Ma che è a Casolini che ce la fanno? Non l'ho mai sentito Vabbè povero È tipo i Carlini Puscio? Sì sì, puscia, puscia È incredibile che ti deve chiedere ancora le informazioni Non sei bloccato Dai, io Io non è che lo faccio perché No ma è lei che deve dartela Vai ce lo facciamo Su questo minion Vieni, vieni, vieni Ora Vuoi esser sicura io, no? Vabbè No Oddio Eh No Vuoi che ti aiuto a pusciare? Sì, Pierica Andiamo insieme Oddio Ecco Siamo pari per il gamberino Non è vero Mi devi ancora Prendere otto kills Madonna Eh, volevo Prendermi civil È pronto, ho rubato niente Oddio, è ex È stato un chad, infatti Hai voluto aspettare perché mi ha seguito quel flash Cazzo, stupidina Cazzo, stupidina Cazzo, stupidina Dai Aia Allora, io Io sto strano, ok Io, tipo Non avevo capito Per quello che ho 12 anni Tranquilla, non si era capito Ma segui fragola per caso? No Cioè, lo seguo ma non Guardo tante live in generale Eh, lui usa quel linguaggio per evitare di flammare Perché in realtà è tossico anche lui Dentro Però sì Sì, sì, sì Quindi No, è vero, è vero È tipo full chad che Full chad Sì Che meraviglia Io per mantenere il tete ti ripugni sulla scrivania Quindi fa meglio lui, mi sa Sì Davvero non flamma fragola? No No, io vedo dei tweet contro fragola qualche volta Vabbè, magari Ma perché magari Vabbè, ma perché fragola ci sta Però nel senso Flammare, flammare Non lo fa mai Capito? Oh Oh Ma cosa è successo? Rossella Vabbè, vabbè Era troppo buono poi Era troppo buono per essere vero È giusto il balance No, te lo sei bevato È good Oddio Che è questo? Nice, nice Se la prassolta ci metti pure il flash È anche una bella azione Pensa Cugino Rap Tu l'ammazzeresti così? Come vuo? Non so cosa gioca Sto facendo il gromp Sai che arrivò Vabbè, io Io vado a sentimento A quello che vedo Nice Molto semplice Vado a spaccare Come muore Prendi, mi prego Potrebbe dire C'è il jungler qua Ma cosa fa il 6 di Cassadin? Cassadin? Non è molto promettente Questa domanda No, no No, non l'ho capito Perché alien gioca a Cassadin Non è molto promettente No Ma forse contro alien Ci vado io mid Che ne dici? Dunque c'è la ulti Non penso che sia di evabile Ritorno qua Possiamo Long range Te lo aggro io Sono sicura, eh Scusatemi Anco io? Ok Va bene Non ho preso il towershot Mamma mia che gli ho fatto Ce l'ammazziamo, eh? Uggdio Uff Oh, oh shit È arrivato puntuale Ero convinto fosse ancora in bot Ma non può Mai ne ha visto A killarci E vai Fa un culo, cazzo Mossa Nice Poi pazzi questi, eh Gli ho fatto Gli ho fatto un passo di danza A quel Tuo Eh, allai E non lo sapevo Condividiamo Condividiamo Gli ho fatto un passo di danza A quel Mordekaiser Meglio di Sara Quando fa I balletti K-pop È vero 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 Regole Vastro HP Le Oh ulti Ok, nice Uno per uno Non fa male a nessuno Ehm, oddio Fai anche non pusharla Questa Ok A bus Uno qualsiasi Così Tu con Agali, Feri con Nasus Sciogli a lavare i piatti Mi ha fatto troppo ridere La casualità del coso Ma perché la tociata oggi c'era con me Ha flammato pure le altre due Subito dopo Ovvio Era generale Non era riferito a nessuno Abbiamo il team dello stereotipo femminile Mi aspettavo niente di me Era comunque impostato in modo divertente Non già prendiamo Don Torri No no Sta sull'orlo di guerra Tra Alerendis l'altra volta Ci sta che se la possa prendere Quindi io proteggo un attimo l'ambiente Io non me la prendo con nessuno Quindi Rosse hai capito cosa fa la ulti di cassa Se vuoi sì La ulti di cassa è quella che ti Te lo fa teletrasportare avanti e dietro il continuo Esatto Ma la faccio tauta a Rossella Lo faceva già prima Eh no Io sto arrivando Aspetta non c'è il fear Aspetta No non è vero Tanto c'è sputtato C'è il gra Sì perché sei passata qua per forza Grazie per la presentazione Sara Di nulla Di nulla Tanto danni di torre Ma dov'è il cassa? Prendilo 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 Ma quanto sta aperto? Eh no adesso ulta via Si testa le limite Eh dai ma questa mi sono un po' addosso Fallo zumpà Fallo zumpà Facci vicino Facci facci Ogni cinque secondi Paura Come cinque secondi? Eh non lo prenderò mai Eh ormai va bene va bene va bene Ma lui mi vuole No no Eh sì o che Ma non dovevi andarci Ma C'era in una cattiva Non potevi andarci davanti Che succede? Che succede? Non capisco più niente E guarda che non abbiamo giocare di più in bcss Quindi è meglio che non impazzissi Esatto Vabbè C'è una scusa oggi che so sviata alle 6 stamattina Oddio E che hai sbocato? Oh Felix c'è un piccolo Allora io ti assicuro che resisto Oddio Eh vabbè hanno flashato in due Cioè voglio dire più di così Non so che fare Doppio flash e ignite hanno usato Ma lo sai che io avevo pure ignite Vabbè ma ci sta che non hai giocato Cioè ma ok full vita Non so se sarebbe chiamato molto Perché Brand ha flashato istantaneamente appena ho saltato Quindi secondo me non cambiava nulla però Ma che cos'è con l'oggetto? Eh? Come cos'è? Non lo conosco Che cos'è? Eh è uscito Vabbè è uscito soltanto da tre mesi ci sta Quattro? Non l'ho mai visto No no è uscito novembre con la pre-season Ah è vero Stai prendendo in qualche ci spuglio secondo me Vabbè loro due mesi e mezzo Anzi addirittura due Sì esatto Due mesi due mesi e mezzo Tu stai in mezzo e cerchi di non prendere fuoco Ecco questo è un mio consiglio Non ti preoccupare Però Raiz non è fortissimo per stompare Però sto salendo Cassadin Da Raiz Sta arrivando il top Cassa Arrivo anch'io Cassa non è buonissimo per stompare Cioè Raiz non è buonissimo per stompare Però Scala molto feo Eh l'hanno preso adesso Cioè Raiz non stompà però scala molto bene Quindi non lo so se lo trovi Dipende qual è il nostro obiettivo Eh sì Han detto che la tua chat è giga chat dei dark Certo Rispecchia lo streamer Ah Anitosa Io mid posso gankare Però deve usare Oh ok ma ok ma ok Facci mid vacci Fatti usare l'ultima Ok Ah l'herald Non si muove il Lo killi Ulti Ah no l'hai già usato No no Ok 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 ha funzionato Andiamo bot Andiamo bot Sì Non so che lo uccidiamo questo Sì Ormai è too late Sto arrivando bot Ti ho provato a hillare ma non so se Ci sono ci sono ci sono Eh siamo tipo morti noi Hai ucciso il Q flashando All'osso Eh pusciamo Hai 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 impreso da Eddie Brand E hai flashato sul Q No scusami Scusami Me la son persa Me la son persa questa cosa Scusami Non ci ho pensato My bad Ti voglio ancora bene Sì sì Forse E di casa Se ti rubassi questo No ok Però dammi una mano qua Va bene E non posso Ancunque farlo Inting Scusate Oddio Io continuo a pushare top E vediamo per il drake dopo Quando mi posso muovere No ma io devo abbassare gli effetti Della Cioè Deve ti ha Flotters è vero Sì Non ho idea Ah Bt e va benissimo Eh mi sa Castle Non vorrei che fosse top L'ho visto scendere Non so se sto salendo Eh no ci sta che stiamo andando top Adesso Facciamo il drake Facciamo il drake Ah C'è un drake Viene anche te Rossi dove vai Va giù No Vabbè L'ho finito lì Ma c'è la will be lead però Aspetta Pusha le vieni Ma chiudiamo 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 Sperno Ah sono aperto No bravo Non Più a danno Sto cosa Ok L'ho ucciso almeno Ok Madonna Hanno pushato come dei passi Non fa danno sto champ Eh ma c'è ancora Guarda non gli è ancora evoluti questi Devi aspettare tanto E questo è il problema di Ryze Non so se lo giocheremo infatti Forse è meglio una roba tipo Cassio Che già dall'inizio Perché ha carenza sta tutti top Non lo so Sai Cassio E ti raccuda a livello 1 Fai già Cioè da livello 2 Fai già fuvita Sì sì tu pusha Tanto io controllo qua Ah Ah È il carretto Oddio Ciao Ciao Dai Croia Sai che possiamo divarlo Nice Buona la ulti Sono un po' esagerato Nice Vabbè Bisogna annunciare qualcosa ogni tanto Cassa bot Scappa 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 Scappo 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 E tanto anche il champ è veloce Non ti può prendere Esatto Hai detto Oddio Non sono sicuro Ok Ottimo GG Ottimo Ottimo Però Eh Sa questo qua Io ho paura Non entrare in range di ult Non entrano in range di ult Comunque mi sa che Devo giocare a Conqueror Rides pure Ma che palle Ma prima si Sto arrivando anch'io top Arriva anch'io Non è molto male però Non lo tiriamo giù questo vero Oddio forse sì Sono Deido Oddio Forse però L'ho stunnato Eh Mirana down bro No Che champ del cazzo Sì proprio sì Nietro dietro Eh Quasi 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 Stai Eh ragazzi Non c'è spesso nulla In botte eh Continua 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 Rossa Continua Rossa Dove li fate Ok non c'è quella E Ce l'ho adesso Non dir niente Nulla 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 Che dici Vedi che vado Vado la belt anche Che sono full ap O vado loro O vado A me lo chiede Non lo so Se sarò onesto Non lo so Sì 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 Non hanno troppi danni Loro Quindi scommessi vai tank E fai il loro gioco Ok vado Abaddon allora E poi poi Sto È un da bot io No io a bot Io a bot Tu top Rossa Ok 100 Ok Ah c'è anche Aia La ww di merda Vado Al massimo puoi fare sei cosa Puoi farti la maschera La bisal La bisal è buona secondo me A qui stai parlando A Deido Penso andare a proteggere top Quando facciamo altre scream Non l'ho chiesto anche a me Ero quando facciamo altre scream raga Ross dove stai andando Eh volevo andare avanti Poi c'è casa E dov'è E quindi devo andare di qua Stai lì e proteggi Sì Proteggo Perché c'è la witsand Il problema è che loro tipo Cioè pushano fortissimo Eh puoi daivare Pazzo Sì vero Ma ok ma ok In realtà no Se ti tieni Il fear No non ti può daivare Finché hai la w doppia Non ti può mai daivare Oddio Comunque sono anch'io in toppe Oh Aiuto mid ragazzi Non c'è più casa Dino Poi provate in qualche c'è Sì Ok Ok Lo premiamo Ma che non c'ha vita Lo shot se viene Casta din Casta din Casta din Dove l'hai visto? Dietro noi Come è dietro di noi? Sì dietro di noi Me lo dici così? Sì 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 Scappo Scappo No ok Non riesco a prenderlo Vado verso dei Dara Ok Sei funghi di merda Che funghi? E poi ora che si giri su di me E herald E herald Abbiamo sta torre Abbiamo sta torre Ok premete la torre Ah ce l'ho fatta Va su di me Ok Sì Vai vai chiamolo 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 Picchia 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 No cazzo Ok Picchia 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 Vai nice Buonissimo Ottimo Comunque rosse Quello è quello che devi fare con Cassero In cui li saltano addosso Tu aspetti Tieni il fear Appena lo fa Puffete Ok Allora Che io volevo Spesso fare la wave Solto che non sapevo se poteva Daivarmi sotto torre Qual era il problema Eh no Non può daivarmi finchiettini Finchiettini Nel dubbio chiede Magari non conosce i danni Ci sta Comunque Quando giochi sti champions con cc Anche Ti ho detto se giovani Amumu eccetera Se puoi chiamati sempre Quando c'è lo stun Ok Qua mi sa che prendo un loro Un drake Non ci possiamo far niente Ci vinci il game Cioè se ci tira uno stun Su un fragola Un counter Un crayon C'hai capito Ci vinci il game Quindi chiama Ma ce l'ho così Quattro secondi ho Il visibilità Non riesco ad ultare qua Ah Non c'è anche la ultima Ma non ce l'ho mai Ok giochiamo mid bot Quattro mid E io bot Vai vai tutti mid Sì Poi postare anche accanto a me Se vuole Postarci intorno Cassadine top Mettete vision qua e qua Però non c'è nessuno top Non serve Non serve Pushiamo mid bot Abbiamo anche l'erano Non c'è più Cassadine Era top Non so dove sta Eh appunto appunto Giocate tutti verso la bozza Se viene Venite verso bot Ok Non ho più ward Aia Io purissima ragazzi L'erano dove lo piazziamo Qua Cioè il blu Possiamo tirarlo mid Ok ancora top Ancora top Cassadine Vedo vuoi il blu Ce l'hai Scusi l'ho visto L'ho visto prima io Vabbè Ti ascio il carretto Il portale non dovrebbe Sparire dal realm Non lo so Non so Non so come funziona Mi dispiace Ok Tira Tira Apriamo la bot Pushate mid Ancora Eh ma ci Io so solo che il portale Mentre ha rotto la covo di jarvan Perché mentre facevo La Q sulla ELA E' sparita Rimasta nel portale Non sappiamo due cassa Tira ragazzi Spiamo questo Facciamo il tempo Ok va bene così Non può azurtare Becchiamo No 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 Giochiamo per il nasher Oddio Io buscio Oddio Andiamo a nascere Devo prendere il pezzo Dell'oggetto Comunque stando Shojin Mi ispira sto game Devo spammare Jax come ti sembra in giungla A me è sembrato ok A me è sembrato ok Ci sta a farne un sacco Sti tipi non sono crazy Però ora lei fa anche un sacco di danno Tipo sulla salute massima Quindi dovresti far Cioè diciamo Un problema è che sicuramente Non dà impatto in early Non abbonda tanto in patti in early Quindi se la bot prende fuoco Prenderà fuoco A prescindere Magari contro un counter Non prendiamolo Secondo me dipende sempre Contro chi siamo Se abbiamo una botte Un po' più permissiva Ma domani fanno vede i gironi Vero? Possiamo giocare Sì 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 Domani Usciate mid Q metti word qua E qua E andiamo a nascere Fieri Vai startiamolo subito Domani vediamo Andiamo mid Sì rimanete mid Rimanete mid Anche la sala può andare Mentre facciamo I suoi ragazzi Solo Ok brand Sivir Ha ultato sivir Ha ultato sivir Siprodutto Vero dietro Indietro Cassa di me Ragazzi Ok c'è andata Eh c'è un cassa di Molto carino Arriviamo Non andarci Mid Mid top Ragazzi Mid top Attenti Pusho top Rimanete 4 mid Non morite Giochiamo bene il nascere Anche se potete fare cose Cercate di non forzare Giochiamo bene il nascere Ok C'è Niente Ho paura di cassa Di in che ci salta addosso Non ho paura Se cassa di in vi salta addosso Muore Finché siete 5 ragazzi Muore subito Ok Avete il fiar di vex Basta che vex Si tene il fiar State accanto a vex E cassa di muore Istantaneamente Stupetti Sbore Andiamo Vediamo top Sono morto Colpa mia Sei vivo Non sei morto Ok No flash No flash Cassarin Oddio Mi ho distratto un secondo Per vedere una roba Come va nella ulti Ecco come va Vindo Ma ha portato pure a me Aia Scusate Oh Questa è la vendetta Questa è la vendetta Ragazzi La vendetta Grazie Andate via Andate via Scappa più veloce che puoi Perché io non c'è il fiar Ma mi hai durato mezz'ora Sto tizio Ok Te l'ammazzi Te l'ammazzi Te l'ammazzi Te lo fai Te lo fai Non aver paura Rosse Vai Vai Kill La ultima Va bene Va bene Ok Se l'ammazzavi subito Se l'ammazzavi Però va bene Trago Cioè Devi essere più confio Sui tuoi danni C'è comunque tanta penetrazione Lo shot Cassini non ha magic resist Yes Mi spiace Cioè con metà vita Tu tiro un po' Il suo tastier Amore Non so se gli stai Forse anche un po' Una cosa nostra Che vi stiamo facendo Gioco un po' Troppo spaventate Però cioè Come vedete Se un bersaglio Stunnato Lo ettate Cioè capito Tipo qua Sara No Cioè I danni li tirate fuori Non è che siete Sempre indietro Quindi Però va bene Il caso Comunque vi avvisiamo Anche noi Quando poter Tirare a destra Tranquillo Drake Questa è Cosa può saltare A destra A sinistra Eh vabbè Ti salta addosso E tu lo cacchi in test Cioè non può più saltare Non lo ammazzi C'è cassa di Non si diverte Il tuvex Una certa Arrivo Possiamo faietare Possiamo faietare Cude Cude Siamo faietare Sostunnata Attimo No Ok Mi ha rapito Ma ha rapito Rapito Ahia Vai Deido Spingi No Scusate raga Credo di averla ulti Invece non ce l'avevo Eh my bad Nice Cassa di qua Quanto c'era il cosa Ah non si è trasferito Che forse la sciogge in terzo oggetto Un po' presto Meglio quarto Io non avevo la ulti Però ho fatto Flash W E non so quanti mi ha preso Non so se va bene Hai fatto una double kill Va bene Ah veramente A quanto pare si Ho visto solo che mi hanno rapito Ma certo Ok Ok Becchiamo Andiamo Tutti i mid top Cerchiamo di giocare per queste torri Va bene Vado mid Vuoi blue Deido Sì Tipo qua Ok Quattro mid Io top Questa volta non morirò io Inside Cercate anche voi di non morire Cerchiamo di giocare bene Queste due ways Ok Ok Sivir mid Con brand Cassa del miss Ancora Oh anche Oh c'è Mokai Mokai nella sua giungla Possiamo prenderlo Possiamo prenderlo Non abbiamo paura Siamo gruppati Ok Tutti i mid No No Tutti i mid Scusa No Torno mid Quale pronome gradisci Piero Cosa? No niente Tutti i mid Andiamo Loco Oddio È casa dei mid Non ti preoccupare Io non c'ho Fia Ce l'ho tra due secondi Chi era quell'altro? Ahia Vieni on top? Non penso ad aver bisogno No no Mid 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 Manete mid Pusciata mid Oddio Torre 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 Ok torriamo torre Oh Buono Oh Non prende danno Mamma mia Che difficile uccidere questo Buono buonissimo Davvero Eh ma moriamo tutti Ci sono Quasi Non c'è Non ha capito? C'è stato un piccolo problemino Eh già Piccolo Nooo Piccolo Eh ce l'ho a magic crazy Ma qui sto shotta Mamma mia Eh al rabaton Nel 17 Deja vu? Deja vu che cosa? Deja vu del victor Andare qui Arrivo subito Ok cerco di gruppare Basta Cerchiamo di gruppare Tutti in una lane Adesso prendiamo il Nash Dove sarei la botrack ragazzi Sennò Cioè la Shojin è stata un azzar Per fare il terzo Terzo oggetto Sennò la botrack Per i danni sulla vita Per l'attack speed Per il sustain Sì andiamo Andiamo per il Nash Qui è stata un po' una memata Ecco Mettiamola così Starto? Sto uscendo da base adesso Lo sanno qui Penso che possiamo Rusharlo comunque Sì Vi dico io Quando fare pausa Aspettiamo Pieric Per lo smite Pausa Arrivo in tempo Nice Kill morde Kill morde Ulto dietro Ulto dietro Ulto dietro Ok Oddio è vero che Stupida Qui 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 Bene Ok mid 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 Nice Il cassa dove era? Non lo so Pare affunghi Sì 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 Affunghi Dobbiamo Mi hanno fatto notare Anche un'altra cosa Dobbiamo ingruppare Molto più spesso Non possiamo giocare Sideline È troppo complicato Anche la roba Giocare split pusher Secondo me Anche split pusher Ma dobbiamo giocare Sempre a team fight Aspettiamo Aspettiamo Morto morto Non c'è il fiat Però vedi comunque io sto chiamando i cc no? Quindi fai anche tu così Cioè aspetta il mio cc magari Io faccio Cioè cassa non può giocare Faccio e w e muore Vai pushate Io becco e tipo Non so se è un bene là Ho la QSS Nessun problema Oddio Nice Vabbè Mi sa che perdono No forse ho trovato io Non ne sono sicuro Ho messo due cui io Sicuro? Eh sì Sono stato sequestrato E non ho la botta No Stiamo testando Non può Oddio No vabbè dai Vabbè raga Vi volto tutti in base Andiamo a finire Va bene Eh sì Forse vuoi Ricordatevi Scusate Ricordatevi Quando io vi ulto La prendiamo tutti In un punto diverso dal cerchio Se no questo ci incula Ok Va bene Ok Ma possiamo fare ragazzi Last dance Mi mancano 70 gold Per la botta Che mannaggia E il drago Sprecato soldi incontro O sottare dentro al drago Potremmo anche ignorare No no Ignoriamolo Andiamo tutti al nexus Sì 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 Fate riuscire magari un po' dalla base Andiamo tutti insieme verso qua Venite tutti qua Ignoriamo il drake E da lì vi ulto Verso la base Eh sta arrivando a mordecazi È ora di flippare Come si deve È ora di flippare ragazzi Pronti Ricordati del Vietnam Siamo pronti C'è una control È tutto guardato lì eh Tutti qua Tutti qua Tutti qua Qua ragazzi In punti diversi vero? Sì Perché se no ci prendono tutti Oh Signore Comunque ci vedono eh Non vorrei dire Eh sì 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 Allora Pronti 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 Tutti a rittare il nexus Eh Tutti 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 Pronti Go 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 Tutti 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 Nexus Menatelo Ok Vabbè Ho fatto ridere Io sono ancora nel reame qua È stato È stato portato in Brasile Nel frattempo Aiuto Lui sa che ho Ucciso il nexus In Brasile Quella W Perché Mi sa di sì Abbiamo fatto Avengers Assemble Qua Ok 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 Nice ragazzi Allora Siamo Terribbi Sì Abbastanza Ma perché non ci concentriamo Diciamo una marea di cazzate Nel frattempo Capito Sì Ma è difficile Ma non c'è Allora C'è Allora Io so che A te sta Almeno ogni due minuti Si vede di una stronzata Allora ci dobbiamo impegnare Non dire cazzate Sentiamo Sentiamo Fai Deido Fai lo speech No 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 Sto Sto pensando A come risolvere Questa roba Perché Quale roba Di 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 Parlar di meno E di Di provar Fa Allora io Penso che Vabbè Questo penso sia normale Per quanto riguarda Persone che magari Giocano poco Da meno Sono più scarse Però tipo Si vede un Cioè arriva un nemico In lane Oh no 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 Oh no no Cassa Silenzio È arrivato È arrivato Il tuo Lender Nella lane Non c'è bisogno Che lo fai sapere A tutti Ecco Diciamo Questo si potrebbe evitare Capisco L'impulso Di chi magari Non è esperto Nel gioco Però non è che Arriva il tuo Lender In mid Oh no 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 Cassa No no Scazzavo No no Via 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 Cioè Perché magari gli altri Comunic Ecco Cassi No no Cassa di no 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 Cioè Diciamo questo qua Secondo me È il problema Principale Di comunicazione Che è la cosa Che le mie orecchie Sentono di più Nelle partite Mi vorrei un pochino Più Cioè Parlare con Q Più Comunicazione In bot Io vorrei che Q parlasse Anche io Non ci riesco Zero Serve Serve Anche io Non riesco A non urlare Quando arriva il Cioè il jungler In bot Però possiamo Provarci Allora Smettete di dire Che Q non parla Perché è cinese Perché io Tutte volte Vado a un ristorante Cinese Parlano Ecco Quindi non è vero Ecco Non so che Cinesi Conoscete Niente L'ha stanzato Voglio leggerla Comunque Comunque Perché non parli Q Perché non sei abituata Perché sei Non sono abituata Ok Puoi fare uno sforzo Ci sto provando Per la VCS Questo ci stai provando Eh certo L'altro VCS Era peggio Ok Ok Provaci un po' di più Per piacere Un pochino E per il resto Parliamo con un motivo Dietro Cerchiamo di tenere Le comms Abbastanza pulite Ora anche io Mi sono un po' Defugussato Perché mi stavo divertendo Vabbè Adesso stiamo Sperimentando Un sacco Troviamo sempre Ruoli diversi Champion diversi Quindi ci sta Esatto Quindi Anna certa però Dobbiamo limitare Le comms E parlare solo Di cose Che servono Io c'ho un problema Io non riesco a chiamarmi Le ulti Di qualsiasi campione Mi dimentico Cioè io vado in base Cioè non si fa come i pokemon Tipo Pikachu Quando fai la mossa No? Tipo la woodhop di Maokai La woodhop Ma hai capito Perché nel momento in cui vedi